Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Maria Rosaria Scassillo, la madre di Stefano De Martino, è una figura di spicco nella vita del figlio, nonostante non sia famosa quanto lui. Originaria di Torre Annunziata, attualmente risiede a Milano con il marito Enrico De Martino, per essere più vicina a Stefano e al nipotino Santiago. Il suo ruolo va ben oltre quello di una madre, è un punto di riferimento costante e una fonte di valori morali solidi che hanno contribuito alla crescita personale e professionale del ballerino. Maria Rosaria è nota per il suo impegno sociale, una caratteristica che ha trasmesso ai figli. Nonostante sia riservata, ha difeso pubblicamente Stefano dalle accuse, dimostrando il suo sostegno incondizionato. Stefano ha sempre parlato del legame speciale con la madre, sottolineando il suo supporto nei momenti difficili. Durante una puntata di Domenica Inn, nel 2019, Maria Rosaria ha espresso il suo affetto per Stefano in una commovente lettera letta da Mara Venier. Ha ricordato i sacrifici fatti per aiutare Stefano a realizzare i suoi sogni e quanto fossero orgogliosi di lui. Le parole piene di amore e gratitudine hanno emozionato Stefano e il pubblico. Il legame tra Maria Rosaria e Stefano è stato evidenziato anche sui social. Soprattutto riguardo alla sua ex fidanzata Emma Marrone. Nonostante la storia tra Stefano ed Emma sia finita, Maria Rosaria ha dichiarato di avere un debole per la cantante Salentina. Il suo affetto per Emma è rimasto vivo, nonostante le vicissitudini della relazione con Stefano. Maria Rosaria Scassillo è una madre amorevole e presente, un pilastro nella vita di Stefano De Martino, che ha sempre dimostrato il suo sostegno.